Ragazzi vi ricordo che se siete interessati ai percorsi formativi sul trading potete scrivermi sulla mia pagina instagram anthony.rossi-basso inviandomi un messaggio in questa sezione qui dove troverete anche i feedback degli altri studenti. In alternativa c'è il sito wolfacademyit.com disponibile su questo link e anche in descrizione dove potete parlare con il mio team gratuitamente su whatsapp e consultare anche i pacchetti adatti a voi. Trovate tutti i link nella descrizione. Signori benvenuti in questo nuovo video sul mio canale guardate un po cosa abbiamo qui abbiamo la mia urus la ferrari è una d'oggi poi abbiamo fatto anche altre macchine dei collaboratori del mio team allora cosa faremo quest'oggi vedremo la ferrari faremo già qualche ripresa la vedremo da dentro questa è la ferrari 488 gtb solo esclusivamente cambio a palette come già molti sanno c'è il cambio sport race eccetera eccetera poi lo vedremo da dentro dell'auto c'è giusto un motore pauroso dentro veramente micidiale questa poi la vedremo in un altro video guardate che cerchi mamma mia veramente bella ora la proveremo perché non è mia personalmente ma è uno dei miei collaboratori comunque sempre nostra sempre della wolf e mamma mia veramente veramente molto molto bella allora ragazzi stiamo girando nel quartiere residenziale dove abbiamo comprato la villa questa è la ferrari 48 gtb qui ci sono tutte le funzionalità race sport bagnato e vabbè poi qui ci sono altre cose da gi cristallo da quasi accende ora andremo un attimo a provarla come vi ho detto questo è solo cambio con palette a differenza della huracan della urus e di altre macchine ok mi sono molto incazzati qui perché stiamo distruggendo questo quartiere lo stiamo inondando di suoni di auto infatti si stanno veramente nervosando per cui non posso correre però già l'idea è già rende l'idea ok mentre vedendo gli interni questo è l'abitacolo che in realtà rispetto a quello della huracan di una urus è 100 volte peggio se possiamo dire così perché non è molto molto bello qui ci sono i tasti per la retromarcia auto 4 frecce e gli specchietti e lì ovviamente c'è il luogo 48 gtb che mi garba tantissimo però preferisco continuo a preferire quello della lamborghini ok stiamo uscendo dal nostro quartiere residenziale ora andiamo a fare una sgasata paurosa per poi tornare indietro salutiamo sempre perché questi qui si stanno veramente incazzando in realtà qua non potrei già sgasare però già il suono si sente la cosa bella che ho provato ieri è che qui c'è il launch control ok ovvero sia consiste nel premere sia il freno dell'acceleratore per poi volare iniziamo già a sentire un po' una bestia di macchina signori ora cerco di farvela vedere di nuovo la telecamera si è abbassata molto prende l'idea insomma ci dobbiamo fermare perché la telecamera di dietro è svenuta per la troppa velocità in realtà non stiamo andando velocissimo però forse l'accelerazione la spinta che ha dato troppo e la telecamera sarà svenuta un attimo ora ci accostiamo e andiamo a vedere l'insta 360 che è praticamente morta il bastone dell'insta 360 è devastato si è distrutto diciamo signori questo era un breve tour della ferrari più o meno come funziona la velocità eccetera eccetera ovviamente l'abbiamo tenuta solo in race potremmo tenerla in sport ma è meglio tenerla in race direi che per questo video è tutto poi lo manterrò e vedrò anche dei visi in questa 360 come le sono venute ovviamente se vi è piaciuta se vi è piaciuto il video vi invito a mettere un mi piace commentare e magari quale tra le macchie che io e mio team abbiamo preso qui a dupai mi sono piaciute di più andiamo un attimino qua la cintura madonna per vedere questa è la nostra zona residenziale abitiamo